Cari amici, vi do il mio più cordiale saluto. Siamo alla quarta puntata di queste trasmissioni che stiamo dedicando all'approfondimento del ricchissimo documento di Papa Francesco intitolato Amoris Laetitia e che concerne le questioni del matrimonio e della famiglia nel nostro tempo. Nelle puntate precedenti abbiamo analizzato il primo capitolo in cui il Papa si sofferma sui fondamenti biblici del matrimonio e della famiglia e poi abbiamo iniziato ad analizzare nella precedente puntata il secondo capitolo in cui Papa Francesco si pone in ascolto di quella che è la cultura attuale, di quelle che sono le sfide che la cultura di oggi pone al Vangelo del matrimonio, al Vangelo della famiglia. Abbiamo iniziato a vedere questo secondo capitolo al quale dedicheremo anche questa quarta puntata perché il secondo capitolo è particolarmente ricco. Nella puntata precedente in modo particolare abbiamo visto che il Papa presenta due grossi nodi problematici, due grosse sfide che si pongono oggi al Vangelo del matrimonio e della famiglia. Quello che è quello che è quello che è l'individualismo esasperato e quella che è la cultura del provvisorio sono due nodi grossi che è sempre difficile sciogliere. C'è oggi, dice il Papa in ultima analisi, una affettività narcisistica che consiste sostanzialmente nell'autocompiacersi, nell'autocontemplarsi, nell'amare soltanto se stessi e che impedisce di costruire con l'altro un rapporto di vero amore che sia stabile, che sia duraturo, che sia fecondo, che consista anche nell'assunzione di responsabilità perché in ultima analisi il clima nel quale siamo immersi è quello di una libertà sganciata da verità assolute, è quello del provvisorio, del contingente e dell'esaltazione soltanto dei desideri soggettivi e perché no forse anche dei capricci. Il rischio che si corre in un contesto culturale di questo genere è quello, lo diceva già Papa Giovanni Paolo II, di usare le persone così come si usano le cose. Usare le persone così come si usano le cose, con la differenza ovviamente che le cose si usano, le persone no, le persone non si possono usare, né tantomeno si può vivere con le persone come dire il senso dell'usa e getta che fa sì che la relazione con le persone venga interpretata in questi termini sostanzialmente consumistici. Quindi vedete già da queste riflessioni del secondo capitolo come il tema delle sfide che la cultura di oggi pone al Vangelo del matrimonio è un tema particolarmente importante. Il Santo Padre poi in questo secondo capitolo denuncia anche altri mali che attanagliano la cultura del nostro tempo. Sarebbe impossibile soffermarsi in queste puntate su tutti questi mali che vengono elencati, quindi mi limito sostanzialmente a farne un elenco, ma con qualche piccola riflessione poi sui punti più importanti. Per esempio un male che caratterizza la famiglia del nostro tempo è il calo della natalità, il calo demografico, che viene attuato, scrive il Papa al numero 42, spesso anche con interventi coercitivi da parte dello Stato. Ci sono stati in cui le famiglie possono avere al massimo un figlio, pensate alla Cina. Ci sono stati in cui le famiglie che hanno più di un figlio non vengono riconosciuti nei loro diritti, per esempio del secondo o del terzo figlio. Ci sono cali demografici anche nei paesi a basso tasso di natalità, a cominciare dal nostro paese, che è forse al penultimo posto, se non ricordo male, per tasso di natalità. Con tutte le conseguenze che ovviamente questo poi potrà comportare in termini pensionistici, in termini di distribuzione del reddito, eccetera. Il Papa denuncia poi al numero 44 la mancanza di adeguate politiche familiari e del lavoro. Anche questo sarebbe un tema oltremodo interessante, no? In quanti Stati si portano avanti politiche a sostegno della famiglia. Si parla di diritti degli individui, ma non si parla di diritti della famiglia. E in quanti Stati si portano avanti valide politiche del lavoro, che possano consentire ai nostri giovani precari di guardare al futuro con minore problematicità. Al numero 45 il Papa cita poi l'angoscioso tema dello sfruttamento sessuale dei bambini, specie in alcuni paesi poveri, dove questo sfruttamento sessuale dei bambini è fonte di reddito. È una cosa, dico, angosciante, vergognosa. Al numero 46 il Papa cita il dramma delle migrazioni. Sapete con quanta attenzione Papa Francesco si è posto nei confronti dei rifugiati, degli immigrati, andandoli a trovare a Lampedusa, nell'isola di Lesbo e quant'altro. Ancora il Papa parla al numero 51 dell'aumento delle violenze familiari e delle dipendenze da alcol, da droga e da gioco, la cosiddetta ludopatia. Ecco, non mi soffermo su questo, ma ci sarebbe da soffermarsi parecchio. E in particolare al numero 54 il Papa parla della violenza contro le donne. Si è coniato oggi addirittura un termine che non esisteva prima, femminicidio, no? Uccisione della femmina in quanto femmina perché femmina, questo vuol dire violenza contro le donne, che è un codardo degrado, scrive il Papa. Il Papa al numero 54 riscontra questa violenza contro le donne anche nella pratica dell'utero in affitto. Che cos'è l'utero in affitto? È l'utero prestato da una donna a un'altra donna che vuole avere un figlio e che non lo può avere perché il suo utero non è capace di gestire una gravidanza. Oppure perché non lo vuole avere perché non vuole avere il fastidio di gestire una gravidanza. Per cui dietro pagamento si affitta quest'utero e dopo nove mesi si sforna per consentire questo figlio che dietro pagamento viene consegnato alla coppia committente. Questa mercificazione del corpo femminile, scrive il Papa, è una inaccettabile violenza. E pensate che questa cosa in alcuni stati viene permessa senza dire che anche da noi non mancano le frange di persone o di gruppi che vorrebbero legalizzarla. E infine, al numero 55, il Papa offre una riflessione particolarmente interessante sulla assenza del padre in molte famiglie. I sociologi contemporanei ci avvertono del fatto che la vera figura in crisi oggi tra le due figure genitoriali è quella paterna. In effetti per tutta una serie di circostanze, che qui sarebbe difficile riassumere, però è dato vedere, constatare che in molte famiglie non c'è il padre. Al punto che i sociologi dicono la nostra sembra essere una società senza padre. Con tutto quello che ne deriva in termini poi di crisi di autorità, di protezione, di custodia, di quelle che dovrebbero essere forse alcune delle caratteristiche della paternità. Mi sembra importante poi quello che il Papa scrive al numero 53, quando Papa Francesco dice avanza in molti paesi una decostruzione giuridica della famiglia, notate questa espressione, decostruzione giuridica della famiglia, che tende ad adottare forme basate quasi esclusivamente sul paradigma dell'autonomia della volontà. La decostruzione giuridica significa che in molti paesi avanza l'idea di sovvertire, di modificare, di cambiare, di stravolgere le leggi che regolano il matrimonio e la famiglia, pensando, così mi pare di interpretare il pensiero del Papa, che lo Stato debba soltanto limitarsi a fare da notaio, per così dire, a registrare le diverse forme di convivenza o di relazione affettiva che oggi esistono e che sono tutte giuste, tutte lecite, tutte possibili per il semplice fatto che appunto fanno leva sull'autonomia della volontà, sulla scelta soggettiva. Da questo punto di vista certamente il Papa non esita a dire nel numero 52 che pur riconoscendo la varietà di situazioni familiari oggi presenti nella società, varietà, varietà, il Papa afferma che le unioni di fatto o le unioni tra persone dello stesso sesso non si possono equiparare semplicisticamente al matrimonio. Guardate che è un'affermazione chiara questa. Cioè, lo sappiamo che esistono le unioni di fatto, le convivenze, eccetera, lo sappiamo che esistono anche le unioni tra persone dello stesso sesso, ma il Papa dice, pur riconoscendo che esistono, non possiamo equipararle semplicisticamente al matrimonio. Matrimonio è un'altra cosa. Il matrimonio è l'unione stabile e feconda, la comunione di vita e di amore tra un uomo e una donna che tende non solo all'unità indissolubile e duratura dei due, ma anche alla procreazione. Torneremo su questo, però il Papa nel numero 56 trova una pericolosissima deriva di questo modo di pensare, di questo modo di intendere, nella cosiddetta ideologia del gender. Ideologia del gender che prospetta, scrive Papa Francesco, una società senza differenze di sesso e svuota la base antropologica della famiglia perché consegna di fatto l'identità umana a una opzione dei singoli soggetti che può essere anche mutevole nel tempo. Cioè, sì, si nasce maschio o femmina, ma poi si diventa quello che ognuno vuole. Sono stati calcolati più di 70 gender o generi da coloro i quali coltivano questa ideologia, la quale tende a dire che non c'è un dato biologico, un dato naturale assoluto. Ognuno poi è quello che desidera essere. Per cui è inquietante, dice il Papa nel numero 56, che questa ideologia voglia imporsi come un pensiero unico che determini anche l'educazione dei bambini, perché è inquietante il fatto che questa ideologia del gender è entrata a far parte anche di alcuni testi scolastici per le scuole elementari. E questo è davvero inquietante, così come è inquietante l'idea che voglia imporsi questo come un pensiero unico, come un monopolio di pensiero, come una violenza contro coloro che non la pensano così e che vengono spesso immediatamente tacitati di omofobia, di grettezza mentale, di integralismo, di fondamentalismo. Infine il Papa mette in luce che la rivoluzione biotecnologica nel campo della procreazione umana ha introdotto anche la possibilità di manipolare l'atto generativo, cioè l'atto procreativo, rendendolo di fatto indipendente dalla relazione sessuale tra l'uomo e la donna. Per cui la relazione sessuale e la procreazione sono diventati sempre più separati, così come la vita umana e la genitorialità sono divenute, scrive il Papa, realtà componibili e scomponibili, soggette prevalentemente ai desideri di singoli o di coppie. Il Papa conclude al numero 56 con questo monito, con cui concludo anch'io questa quarta puntata. Scrive Papa Francesco, non cadiamo nel peccato di pretendere di sostituirci al Creatore. Siamo creature, non siamo onnipotenti. Il Creato ci precede e deve essere ricevuto come dono. Al tempo stesso siamo chiamati a custodire la nostra umanità e ciò significa anzitutto accettarla e rispettarla così come è stata creata. Mi sembra che possiamo concludere con queste parole questa quarta puntata delle nostre trasmissioni. Rivolgo a tutti voi un cordiale saluto.